Siamo con Francesco Minelli ed Elena Pintigli. Adesso Francesco ha un messaggio per noi e lui le dirà con le labbra e Elena ce le tradurrà con le parole. Piacere e buongiorno a tutti. Volevo solo dire che la vita a volte è crudele. Ed è molto dura. Però ci bisogna sempre di avere speranza per tutti quelli che stanno come me. Perché io sono stato fortunato di incontrare Elena. Che ha cambiato tutta la mia vita. E sono riuscito diciamo a superare tante difficoltà insieme a lei. Quindi la speranza di tutti voi deve essere quella di non arrendersi, di non arrendersi mai. E sperate che la mia vita possa andare tutto per il meglio. Come è successo a me. Può succedere anche ovunque. Io sono qui per qualsiasi cosa. Adesso fa vedere come si muove lui da solo. Per far capire che anche le cose più piccole sono molto importanti. Tu puoi muovere solo la testa, giusto? Come cambia la televisione? Come cambia. No. 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 Ma. Ma calma. No. 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 E adesso lo spegne? Si è spenta la televisione. Adesso l'accende? Fa tutto con la sedia. Amate gli animali che loro dà l'amore più grande e vi dà una spinta in più, perché lei è cresciuta in braccia a Francesco da piccola, era una piccolina e sta solo in braccia a lui. Quindi questi sono i nostri bambini. Grazie a tutti. Un saluto e un abbraccio. Grazie Elena, grazie Francesco per questa bellissima testimonianza di vita. Speriamo di essere d'aiuto a qualcuno. Sicuramente. Grazie.